Se c'è una cosa che bisogna ammettere è che gli sviluppatori di Snapchat sono sempre al lavoro per introdurre nuove funzionalità per l'applicazione e per i messaggi sicuri Ormai è diventato un vero e proprio social network, ormai le funzionalità sono tantissime L'ultima novità di Snapchat sta nei filtri per il mondo Dei veri e propri filtri simili a quelli con i quali da tempo ormai tutti quanti modificano i propri faccioni Dei filtri che però utilizzando i sensori di movimento interi nello smartphone e la fotocamera posteriore riusciranno a trasformare proprio l'ambiente Una cosa veramente molto divertente E' una novità disponibile solo nell'ultima versione di Snapchat se non vi è ancora arrivato l'aggiornamento aspettate un pochino Ed è disponibile sia per iOS che per Android Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di TechFanPage L'attivazione delle world lens funziona proprio come le selfie lens Tutto quello che dovrete fare è con la fotocamera posteriore tenere premuto a lungo sul display E vedrete che il sistema analizzerà quello che sta inquadrando e vi permetterà di aggiungere diversi filtri che andranno a modificare proprio l'ambiente che vi circonda Si tratta di un sistema molto simile a quello che abbiamo già visto da tempo con la fotocamera dei selfie Quindi la fotocamera frontale in Snapchat Che permetterà quindi di aggiungere degli elementi animati all'ambiente che vi circonda E vi permetterà inoltre non solo di condividere quindi il file con i vostri amici di Snapchat Ma proprio come succede con i selfie lens Sarà possibile anche salvare per esempio una foto dall'animazione che si è andata a creare Oppure salvare addirittura il video per poi condividerlo con tutti i vostri amici Dopo aver utilizzato questi filtri che sono divertentissimi Potrete a questo punto salvare il file oppure condividerlo su Snapchat Salvando il file lo potrete condividere in qualsiasi applicazione compatibile col sistema di condivisione di Android o di iOS Io sono Dario Caliendo e l'appuntamento al prossimo video di TechFanPage Grazie a tutti